La prima parte di questo nostro appuntamento di oggi è dedicato a una pubblicazione, a un saggio che verrà presentato, penna carte calamaio, lo diremo nel corso di questo nostro appuntamento di oggi. Il saggio si intitola Il piccolo esodo dei Mugesani e il campo profughi delle Noghere. Lo ha scritto Francesco Fait, storico, lo ha stampato il circolo di cultura Istro-Venito, Istria. Francesco Fait è in studio con noi, buon pomeriggio, benvenuto a sconfinamenti. Buon pomeriggio e grazie. Il piccolo esodo dei Mugesani e il campo profughi delle Noghere è una chicca, una perla, potremmo definirla così, della storia, magari misconosciuta, di un periodo molto lungo, quello relativo dal 1947, che ha interessato questi territori. Gli ascoltatori di sconfinamenti conoscono molto bene, perché nel corso degli anni abbiamo dedicato parecchie puntate a questi temi legati all'esodo, non soltanto nella giornata del 10 febbraio. Questo dobbiamo sottolinearlo. Lo sconfinamenti ha seguito costantemente questo tema, che è un tema storico fondamentale per queste terre. Il piccolo esodo dei Mugesani e il campo profughi delle Noghere. Innanzitutto, come nasce l'idea? Ci diamo del tu, Francesco. Ma molto volentieri. Come ti è nata, come ti è venuta l'idea di iniziare uno studio approfondito, come vedremo poi nel corso di questo nostro appuntamento? L'idea mi è nata dal fatto di essere io muggesano. Questi sono avvenimenti che si verificano nel 1954, con l'ultima rettifica del confine e nei decenni successivi, nel territorio dell'attuale comune di Mugia, che è questa cittadina piccola, non piccolissima, che ha circa 12.000 abitanti in provincia di Trieste. Ed è culturalmente, ovviamente, legata a Trieste, ma altrettanto legata, e anche di più per certi versi, all'Istria, di cui fa parte anche geograficamente. Quindi l'interesse mi è nato dalla vicinanza e dalla prossimità proprio fisica con i luoghi in cui si ambienta il racconto del mio libro, e poi perché il piccolo esodo ha delle caratteristiche particolari che lo rendono, per certi versi, unico e lo rendono quasi un vetrino attraverso il quale studiare in piccolo dinamiche che sono più grandi e hanno riguardato anche, per altri esodi, decine di migliaia e centinaia di migliaia di persone. Allora, Francesco Faiti, innanzitutto diciamo il periodo storico, tu l'hai già inquadrato, il 1954, perché viene rettificato quel confine che è al di sopra, diciamo così, del centro abitato principale di Mugia? È l'ultima rettifica che viene fatta ai danni, diciamo, della Repubblica italiana a beneficio della Repubblica federativa di Jugoslavia. È un gioco delle parti, è una differenza di peso dei contendenti, che in questo caso sono ovviamente Italia e Jugoslavia, con l'arbitraggio, per così dire, degli inglesi e degli americani. Viene spostato perché l'Italia ha meno peso contrattuale, diciamo così. Questa è la ragione vera. Tito poi, rivendicando questo spostamento a suo favore, dirà che aveva bisogno di quel territorio per una tratta ferroviaria, ma quello è un pretesto. Certamente. Quante persone furono interessate da questo che tu definisci nel titolo il piccolo esodo? È un piccolo esodo perché riguarda poche persone rispetto, come dicevo, alle decine, centinaia di migliaia di esuli istriani, fiumani e dalmati, che sono circa 3.000. Ed è anche un piccolo esodo perché è un esodo, per così dire, a chilometro zero, nel senso che i 3.000 si spostano e a volte si spostano di poche centinaia di metri, perché si spostano quel poco, quel tanto o quel poco che è necessario per restare nel territorio della Repubblica Italiana, magari facendosi ospitare da parenti. Oppure, ed è la seconda parte di questo titolo un po' lungo, vengono ospitati nella struttura che viene allestita appositamente, che è il campo profughi delle Noghere, che si trova nella zona, appunto, industriale, artigianale, attuale del comune di Muggia, quindi sempre all'interno dello stesso comune dal quale sono stati espulsi con la rettifica confinaria che hanno subito. Sono quasi 3.000 persone, ovviamente in età lavorativa, ovviamente non saranno state evidentemente tutte 3.000 persone. Erano afferenti però dal punto di vista lavorativo comunque ai cantieri di Muggia o erano anche agricoltori? Per lo più sono entrambe le cose, nel senso che sono dipendenti dell'industria meccanica pesante, quindi dei cantieri di Muggia o di Trieste o della fabbrica macchine, però sono tutti anche contadini ed è un'economia interessante da questo punto di vista, perché l'economia domestica può contare su la certezza dello stipendio fisso periodico, ma anche sui frutti del lavoro della terra. Quindi un'integrazione, diciamo così, a reddito. Un'integrazione, sicuramente sì. Un'integrazione importante perché da questa storia, leggendo il tuo saggio, emergono delle storie personali molto sofferte, che vanno ben al di là di quella che era la mera integrazione dello stipendio, quindi anche un attaccamento molto forte alla terra, non soltanto all'abitazione. Nel tuo libro si parla anche di una logica geometrica del nuovo confine. Perché una logica geometrica? Perché il confine viene tracciato fissando alcuni capisaldi, che sono appunto dei capisaldi e sono congiunti l'uno dall'altro dalle linee geometriche. Nel momento in cui, che avranno anche avuto un loro senso, che immagino che prima di tracciarle, chi le ha tracciate abbia consultato le mappe. Il punto è che gli insediamenti sono sempre qualcosa di diverso dalla loro rappresentazione nelle mappe, per tante ragioni. E quindi si verificò che la logica geometrica appunto del nuovo confine in realtà si trovava a interferire con la logica umana degli insediamenti. Questo significava dividere fondi, lasciandoli al di qua, al di là del confine, e ovviamente le implicazioni erano enormi per i loro proprietari, in alcuni casi dividendoli a metà, e dividendo a metà anche strutture come pollaio, addirittura come abitazioni, proprio case di abitazione. Per cui ci furono dei casi, e anche più di uno, in cui le case vennero divise da una linea immaginaria, ma che faceva sì che, ad esempio, la zona notte della casa fosse in Jugoslavia e la zona giorno in Italia o viceversa. Una situazione quasi da teatro dell'assurdo. È incredibile, è incredibile, veramente. I paletti gialli, il colore giallo ricorre in questo tuo saggio, proprio per quanto riguarda i confine, il confine sui colli di Mugia, come vengono definiti i monti di Mugia. Insomma, questa terminologia è molto particolare, molto importante, anzi è un invito a chi ci ascolta magari ad andare, adesso in Slovenia ovviamente, per avere anche una visione panoramica del Golfo di Trieste e della sottostante cittadina di Mugia. Però si diceva prima che è un paradosso, no? Quello della carta assegnata in un ufficio e che poi, portata sul terreno, taglia vite, taglia esistenze, taglia, come dire, anche tante visioni della propria famiglia. Tu hai operato una ricerca che non è soltanto la ricerca d'archivio, e questa serve ovviamente per dar valore a quello che c'è scritto all'interno di questo tuo saggio, ma hai voluto anche far parlare e quindi riportare su carta le testimonianze delle persone che hanno vissuto quel dramma. E così, volevo dire così, fare una piccola aggiunta alle cose che dicevi giustamente tu, si parla dei monti di Mugia tenuto conto che l'angolo visuale è quello di una città di mare, quindi parliamo di altitudine di qualche centinaio di... Certo, è vero. Ecco, allora la ricerca mia si è basata su appunto la classica ricerca di fonti d'archivio, con i fondi dell'archivio storico del comune di Mugia, della prefettura di Trieste, che allora trattavano da diversi punti di vista la gestione dell'emergenza di questo piccolo esodo. Però è una ricerca che io ho integrato dalla viva voce dei sopravvissuti, che sono 20 persone, che io ho intervistato dal punto di vista storico. Questo significa un'intervista, 20 interviste che sono state tutte sbobinate, come si dice, sono state trascritte e credo che questo sia una delle implicazioni positive di questa ricerca, nel senso che la ricerca della fonte orale, in questo caso intervista, si è manifestata nella creazione di una fonte, perché le trascrizioni che sono depositate nell'archivio storico della famiglia muiesana saranno comunque una fonte che anche tra qualche anno o decine d'anni, chi sarà interessato a analizzare e raccontare questi fenomeni di cui potrà disporre. Certamente anche l'importanza della fonte orale, una volta scomparsi quelli che sono stati gli attori principali di quest'esodo, ma anche di altre storie, verrà persa completamente la memoria delle loro vicissitudini che hanno vissuto in prima persona. C'è all'interno di questo tuo saggio appunto tanti scritti che ci rimandano come a una sorta di mosaico, un grande mosaico di questa piccola storia, anche se il mosaico è molto grande, perché fa parte degli affetti, fa parte della storia personale di ciascuno di queste persone che hanno voluto condividere a tanti anni di distanza proprio questo dramma. C'è una particolarità che a me ha colpito nel leggere il saggio, è quella della famiglia Lenardon. Possiamo ricordarla a questi microfoni? Ecco, la famiglia Lenardon è una delle vicende alle quali accennavamo prima, cioè di famiglia che ha avuto una famiglia di agricoltori, agricoltori da generazioni, il cui nonno aveva acquistato dei fondi, aveva faticosamente strappato all'incolto per trasformarli soprattutto in vigneti. Quindi i fondi furono divisi e furono assegnati una parte della campagna d'Italia, una parte della Jugoslavia, e anche la casa di abitazione, con l'implicazione che era quasi kafkiana, nel senso che le autorità jugoslave pretendevano che il capofamiglia, che era agricoltore di professione e che campava vendendo i prodotti del suo orto nel mercato cittadino di Muggia, pretendevano che il transito avvenisse attraverso i valichi confinari che erano stati istituiti. Ma questo non era possibile, perché l'unica strada che collegava la sua abitazione era la vecchia strada del vecchio comune di Muggia prima della spartizione. E quindi ogni volta che quest'uomo tornava a casa dopo aver venduto i suoi prodotti, era atteso dalle guardie confinarie che lo accompagnavano e lo scortavano e lo arrestavano per portarlo a Capodistria, proprio perché accusato di aver effettuato uno sconfinamento illegale. Certamente questo può far sorridere oggi nel 2019, però è una vicenda che ci fa comprendere quella che era la difficoltà proprio all'epoca, contestualizzando proprio il periodo storico, ci fa comprendere veramente il dramma di queste famiglie. Quando parliamo della storia di un maiale invece, è un'altra vicenda anche questa kafkiana, però che ci dà la cifra dell'epoca. Dà la cifra dell'epoca perché ci racconta di come a volte la storia decisa negli importanti consessi e nei grandi consessi abbia queste ripercussioni apparentemente ridicoli e in realtà drammatiche perché hanno a che fare con la vita della famiglia e con l'economia. La storia del maiale è sempre della famiglia Lénardon perché questa famiglia di contadini aveva le stalle che erano passate, per così dire, alla Jugoslavia e quindi le autorità avevano sequestrato il maiale. Poi ci fu un'avvertenza internazionale, la situazione venne composta, questa situazione così paradossale della casa divisa in due, per cui la casa venne riassegnata all'Italia ed è tuttora. Tra l'altro l'attuale signor Bruno della famiglia Lénardon ha continuato l'attività del padre e del nonno ed è un viticoltore che peraltro continua a vivere del lavoro della sua terra. Poi c'è un altro paradosso che ti racconterò subito dopo averti raccontato la cosa del maiale. La vicenda del maiale si chiuse così. Le autorità jugoslave non volevano restituirlo, nonostante gli accordi prevedessero che andassero restituiti anche i beni, perché sostenevano che avendolo ingrassato il bene era diverso da come si trovava quando era stato sequestrato. Poi alla fine venne restituito. Però ti dicevo, l'ultimo paradosso, il paradosso della storia di queste zone a volte dura anche decenni dopo che le fasi critiche si sono concluse. Parlando sempre di questa famiglia Lénardon, Lénardon è stato uno dei primi che ha preso in affitto i terreni che erano stati paradossalmente di sua proprietà dopo che alla Jugoslavia è succeduta la Repubblica di Slovenia. Quindi adesso lui coltiva una parte dei terreni che erano stati acquistati da suo nonno ed erano stati perduti avendoli in affitto dallo Stato di Slovenia. Incredibile. Quindi è una situazione incredibile. Sì, sì, incredibile. Quando parliamo di confini, soprattutto per gli ascoltatori che non hanno i capelli canuti, noi parliamo di confini che sembrano quasi, come dire, irrisori, nel senso che non presidiati, con soltanto una linea di demarcazione, eccetera, eccetera. Mentre nel tuo saggio emerge molto chiaramente le sparatorie che avvenivano durante, come dire, magari degli sconfinamenti involontari, ma anche delle vicende di, fra virgolette, contrabbando che si generano sempre quando c'è un confine. Questo è logico. Però non abbiamo, come dire, contezza di quello che successe veramente, anche dal punto di vista delle morti, no, su questi confini, Francesco? Sì, è una delle cose che dico nel mio libro. Le memorie si generano se esistono delle persone che hanno la volontà e l'interesse a perpetuarle. Sui confini, ma non solo sul confine di cui stiamo parlando, in generale su tutti i confini che dividevano le repubbliche cosiddette popolari dagli stati democratici dell'Occidente, furono teatro di eventi quotidiani, di tentativi di fuga che culminavano in raffiche di mitra e sparatorie. Basta sentire le persone che hanno una certa età e che vivono nei pressi di confine e tutti quanti, tutte le famiglie, hanno dei racconti di fughe rocambolesche. E io, in un punto del mio libro, dico che sarebbe bene che da qualche parte si avviasse una ricerca anche per inserire nel racconto corale della memoria e delle memorie del nostro confine orientale anche la voce di queste persone cadute nel tentativo di fuggire o di liberarsi dallo Stato jugoslavo e che non hanno mai avuto una voce. Parliamo ovviamente di questa pubblicazione di Francesco Feit grazie ovviamente al Circolo di Cultura Istro-Veneta Istria si intitola Il Piccolo Esodo dei Mugesani e le Campoprofughi delle Nogheri. Lo storico Francesco Feit è qui con noi per illustrare questa pubblicazione. Si diceva prima, avvenuto il piccolo esodo, come viene definito dal tuo titolo ovviamente, dei Mugesani, si ritrovano però privi di abitazione. Alcuni trovano locazione presso parenti ed amici, mentre gli altri... Allora, gran parte, bisogna dire, dei 3.000 di cui parlavamo si sistemano perché la comunità, anche se si restringe, continua ad esistere perché tutti hanno dei parenti, degli zii, dei conoscenti che li ospitano, affittano le cantine, le soffitte. Quindi direi che circa i tre quarti, grosso modo, si sistemano presso parenti e amici e questo genera una situazione che chi ha una certa età ricorda, una situazione abitativa ovviamente aggravata da questa dinamica. Gli altri trovano ospitalità nel campo che viene allestito dalle autorità della Repubblica Italiana che è il Campoprofughi delle Noghere. Facciamo un passo indietro però, perché noi siamo nel Campoprofughi delle Noghere per chi ci sta ascoltando e magari molto spesso va anche in vacanza, in Slovenia o in Croazia, non utilizza o utilizza anche la superstrada. Quando arriva a un certo punto e vede un grande complesso che si chiama Montedoro Free Time, anche se non dovremmo fare pubblicità, ma diamo una località, una locazione, un riferimento geografico a questo punto, quasi toponomastico ormai, al di sotto vedrà delle distese di piccole costruzioni industriali, di saloni di automobili, eccetera, eccetera. Ecco, in quel luogo dobbiamo immaginare, prima però, Francesco, della costruzione dell'erezione di un Campoprofughi di una cosa completamente ben diversa. Quella era una zona quasi malarica, fra virgolette la mettiamo. Lo era. Ecco. Lo era. Lo era. Allora, dobbiamo immaginare, se parliamo delle 800, delle saline, che poi diventano, nel momento in cui non vengono più coltivate, non vengono più sfruttate, diventano zona malarica. Però bisogna dire che negli anni del fascismo, quella zona diventa un aeroporto. Un aeroporto che, a quanto pare... Militare, penso. Militare, un aeroporto militare che, a quanto pare, non ha mai funzionato o ha funzionato pochissimo, per varie ragioni, però le zone vengono bonificate per costruire, ci sono dei canali, viene deviato l'ultimo tratto del fiume, che si chiama Riospo, e nasce quindi. Ed è questo luogo che viene prescelto per la costruzione del Campo delle Noghere, che è un campo non dei più piccoli, non è dei più grandi, ma non è neanche dei più piccoli, e ha una particolarità che lo rende probabilmente unico, pur nella varietà degli insediamenti di emergenza costruiti per gli esuli Giuliano Dalmati. È unico perché in esso convivono, ed è diviso metà, anche qua, c'è questo tema della suddivisione e della divisione, dei confini più o meno reali, ricorre molto in questa piccola storia. Ed è diviso a metà perché una metà del campo circa ospita gli istriani, gli istriani dell'ultimo esodo degli istriani, che vengono, diciamo, dalle zone vicine, dal Capodistriano, dalla zona di isola... Quindi dalla zona B, come veniva definito. Dalla zona B, che sono ovviamente credenti e orientati, insomma, nella quasi totalità dei casi, altrettanto evidentemente verso l'allora partito di governo e quindi la democrazia cristiana, e nell'altra metà ci sono questi muggesani, che abbiamo detto che sono operai dell'industria pesante, che sono sindacalizzati e che sono, e che erano, e sono rimasti comunisti. Sono rimasti comunisti e quindi questo genera una dialettica che non è comune. Non è riscontrabile negli altri campi, ecco, questo dobbiamo dire. Arrivano i muggesani, si diceva, no? Arrivano i muggesani. Quando vengono portati sono, grossomodo, 700-750 persone arrivano in questo campo. Un ruolo importante anche in questa vicenda, però, è attraverso la trattazione delle carte, dei documenti che tu hai trovato, e anche quello del comune di Muggia. Siamo in un insediamento, peraltro, il piccolo esodo avviene nel territorio che il comune di Muggia perde. 740 persone che sono residenti e abitanti di Muggia vengono, come dire, trasferiti in questo campo profughi nel comune di Muggia, quindi diciamo che anche l'amministrazione comunale retta dal partito comunista, dal sindaco Pacco all'epoca, ha una forza e presenza, anche dal punto di vista del Consiglio Comune, dei documenti che vengono votati. Certo. Allora, diciamo che se si va a vedere le delibere di Consiglio, di Giunta Municipale, o le emozioni, di allora si viene presi un po' da un senso di quasi simpatico stupore, per vedere quanto vi sia una volontà o un desiderio di partecipare alle vicende mondiali. Che nel caso, in questo caso di cui stiamo noi discutendo, ha anche un senso, per quanto vi sia una certa sproporzione tra la forza della comunità rispetto a queste cose che evidentemente vengono decise nei più alti consessi diplomatici mondiali. Però c'è questo senso di rinata partecipazione alla vita, che è anche frutto della dialettica politica che non è certamente forte di quegli anni. Ed è anche probabilmente il frutto della riacquistata libertà dopo gli anni del fascismo, in cui non c'erano evidentemente. Però a volte questa pretesa è un po' tenera, perché ad esempio ci sono delle emozioni contro le armi termonucleari, oppure contro la crisi di Suez, insomma tutta una serie di... Ci sia una visione mondiale, diciamo così, dal piccolo Consiglio Comunale di Muggia, documenti che venivano mandati alle Nazioni Unite, quindi non finivano in un cassetto dell'amministrazione comunale, però prendevano la via e ottenevano anche delle risposte. A volte ottenevano delle risposte e delle lettere, nelle quali le autorità che curavano i rapporti epistolari assicuravano che l'istanza era stata recepita e che sarebbe stata girata ai governi nei vari bollettini. Torniamo al nostro campo profughi delle noghere, abbiamo aperto questa parentesi per far comprendere qual era il territorio interessato, non il perimetro del comune di Muggia ovviamente, dove la nostra storia, grazie a Francesco Fait, viene estrinsecata in questa prima parte di sconfinamenti di oggi dedicata al giorno del ricordo. Anche qui hai raccolto delle testimonianze, innanzitutto io ti ringrazio da lettore per la grande onestà intellettuale nell'aver evidenziato che le testimonianze che tu hai raccolto sono testimonianze comunque di persone che all'epoca erano molto molto giovani e quindi la visione giovane dei luoghi che uno ha è evidentemente diversa rispetto a quelli che possono essere stati i drammi dei loro genitori e dei propri nonni. Questa è un'onestà intellettuale che ti devo proprio per la trattazione di un argomento così delicato come quello che stiamo affrontando oggi. Quali sono in questo caso le testimonianze che tu hai raccolto del campo profughi delle noghere? Le cose che dici tu, evidentemente una fonte è una fiamma di candela che illumina un aspetto ma evidentemente al lato stesso in cui avviene questa operazione tanti altri aspetti rimangono all'oscuro a meno che non si possegano tutte le fonti, ma questa è una cosa che nella verità della ricerca non capita, credo non sia mai capitata. Quindi è vero, le testimonianze che ho raccolto sono testimonianze di persone che hanno un'età abbastanza avanzata da aver vissuto la vita del campo, ma in alcuni casi sono anche giovani perché ci sono persone che sono nate nel campo e considerando che il campo è esistito fino alla metà degli anni 70 sono anche persone molto giovani. Devo dire che la parte migliore della ricerca è stata questo incontro perché per me era importante riempire di contenuti che fossero la vita di ogni giorno perché quando si fa una ricerca su fonti di archivio non bisogna dimenticare che le notizie che si trovano sono notizie che interessavano a quel certo ufficio che ha costituito l'archivio perché facevano parte del suo lavoro di istituto. Quindi possono anche esse dare un senso distorto perché se uno analizza ad esempio la vita dei campi profughi soltanto nelle carte della questura troverà una lettura diversa, anche politica e sicuramente virata su episodi di cronaca che interessavano l'ordine pubblico e la legge che evidentemente esistevano ma erano una delle componenti. Quindi devo dire che mi interessava la vita, la vita vissuta e devo dire che sono stati quasi tutti incontri, innanzitutto quasi tutte le persone che ho avvicinato sono state ben contente di partecipare alla ricerca. Ci sono stati dei pochissimi casi a volte anche divertenti e dei quali non potrei riferire in questa sede cosa mi è stato detto quando io ho chiesto se avrebbero avuto piacere. Però devo dire che c'è questo senso che è un senso che ho notato anche in altre ricerche di storia sociale che ho svolto ed è la necessità quasi che la propria vicenda personale venga inserita in un quadro più ampio e in qualche modo venga riconosciuta anche dagli altri, in questo caso dai lettori. Così un atto liberatorio, potremmo anche definirlo per certi aspetti, per certe persone ovviamente. Comunque un riconoscimento, un riconoscimento e la soddisfazione che determinate situazioni non semplici vengano tramandate sia ai discendenti che man mano che ovviamente le generazioni si avvicinano il ricordo diventa sempre più sfocato, sempre più vago, collocato sempre in una dimensione che è un po' temporale, ma anche in generale. Noi siamo in chiusura di questa prima parte di sconfinamenti di oggi, di domenica 10 febbraio dedicata al giorno del ricordo. Francesco Feit si diceva che questo campo cessa la sua funzione nel 1974, quindi non molti anni addietro, verrebbe da pensare. Che cosa rimane nel tessuto sociale e collettivo della comunità di Muggia di queste vicende? Del piccolo esodo dei Muggesani dai monti di Muggia e anche la presenza di questo campo profughi, così diverso rispetto agli altri? Devo dire una cosa, che è un piccolo esodo e continua ad esserlo fino alla sistemazione definitiva delle persone che avviene in non pochi casi, e oserei dire in una buona parte dei casi, nelle vicinanze immediate del campo. Se si osservano le colline che circondano l'area attorno a quel centro commerciale che citavamo prima, si vedranno delle casette mono, bifamiliari, che sono molto spesso le casette di quelli che erano stati nel campo delle Noghere. Devo dire che rimane un ricordo che è molto vivo nelle persone che hanno un'età sufficiente ad aver assistito quantomeno a questi fatti, ma che si perde completamente nelle generazioni più giovani. E parlo anche della mia età, che quest'anno ho 50 anni. E questo è forse il motivo principale per il quale ho deciso di fare questa ricerca e scrivere questo libro, perché mi pareva giusto che di questa storia così locale, ma non marginale, rimanesse una traccia. In velocità vorrei dire ancora una cosa, che nel libro ci sono circa un centinaio di foto, che sono foto molto belle e in alcuni casi addirittura cinematografiche, che sono prevalentemente della fototeca dei civici musei di storia d'arte di Trieste. Era l'ultima domanda che mi hai soffiato di questo e comunque ti ringrazio, perché molte volte ci si anche dimentica di questo, ti ringrazio. Però penna carta calamaio, avevamo detto all'inizio di questa nostra prima parte di sconfinamenti. Noi parliamo in maniera inedita di questa pubblicazione, ci sarà una presentazione, immagino? Sì, io credo anche più di una, però la più vicina nel tempo ci sarà venerdì, quindi venerdì della prossima settimana, che sarà il 15 di febbraio alle ore 17 a Muggia, nel Centro Culturale Millo. E quindi avremo anche l'occasione di conoscere di persona Francesco Faito, ovviamente voi ascoltatori, e anche vedere magari le immagini e proseguire anche nell'illustrazione che noi non siamo riusciti a completare in questa prima mezz'ora. Il piccolo esodo dei Mugesani, il campo profughi delle Noghere, il circolo di cultura distrovenetoistica che ha dato alle stampe questo saggio dello storico Francesco Faito. Francesco, io ti ringrazio veramente di cuore per essere stato ai nostri microfoni e per aver voluto condividere con noi questa tua ricerca. Grazie a te.